E' importante perché innanzitutto è la base per la condivisione delle conoscenze. Questo è fondamentale che il prefetto di Ancon, l'ottor D'Acunto, gli altri prefetti con la struttura di missione, con gli uffici giudiziari, riescano a monitorare le presenze imprenditoriali. Questo non soltanto nel momento genetico di affidamento ai lavori, ma anche nel momento esecutivo, con i gruppi interforza che dovranno verificare se effettivamente al lavorare siano proprio le imprese affidatarie o se ci siano infiltrazioni, ulteriore elemento di interesse che attraverso la condivisione, lo scambio informativo, anche urgente, riesce sicuramente a bloccare quegli inquinamenti che poi determinano da un lato rallentamento e lavori non adeguati e dall'altro l'esclusione degli imprenditori sani. Le mafie straniere sono presenti, soprattutto quella albanese e quella nigeriana, mafie autoctone via via si costituiscono laddove mancano mafie oramai eradicate e via via la costituzione di nuovi gruppi criminosi che assurgono a gruppi mafiosi si rileva su tutto il territorio, come sul Lido di Ostia, come in altre parti del territorio nazionale. Grazie.